Perché io sono l'Eterno, non cambio. Per questo voi figli di Giacobbe non siete ancora al termine. Finché Dio è lo stesso, i Suoi piani non cambiano, il Suo cuore non cambia, il Suo amore non cambia. Dio non è cambiato. Alcuni dicono che Dio si è dimenticato di Israele, alcune persone dicono che la Chiesa ha preso il posto di Israele. Se dici questo, allora dici che Dio è cambiato. Perché Dio dice invece, io sono il Signore, non cambio. Ecco perché voi non siete ancora alla fine, non è ancora finita. Avete una speranza e un futuro. Perché io sono il Dio di Israele, io vi amo. Tornate a me, tornate a me e io tornerò a voi. Anche a me, tornate a me. Grazie.